Stava pedalando sulla sua bici per un giro sulle colline della Pedemontana Trevigiana quando, in territorio comunale di Castelcucco, è stato colto da un infarto e recaduto a terra. Immediata l'allerta al suo M118 da parte dei compagni di corsa del ciclista, un 68enne di Romano Dezzelino. Gravissime le sue condizioni, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Treviso. I sanitari, una volta sul posto, sono riusciti a rianimarlo. Imbarcato sull'eliambulanza è stato trasportato al San Bassiano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.